Il Comune di Palermo, la Fondazione Teatro Massimo e la Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo hanno presentato lo storico sipario del Teatro Massimo Giuseppe Sciuti, che ritorna al posto in cui l'avevano voluto il suo creatore, il pittore Giuseppe Sciuti e gli architetti del teatro Giovan Battista ed Ernesto Basile. Il restauro è stato reso possibile dalla partnership del Teatro Massimo con Volotea, che ha finanziato i lavori di restauro autorizzati dalla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo. In occasione della prima della stagione 2019 con la Torandoli Puccini, il sipario tornerà ad accogliere il pubblico in occasione di ogni spettacolo in Sala Grande, così come era avvenuto dall'inaugurazione nel 1897 fino alla chiusura del 1974. L'elaborazione del progetto ha seguito il principio del minimo intervento nel restauro, limitando all'essenziale l'intrusività dell'azione conservativa per custodire più possibile gli elementi di originalità del bene da ricollocare nel suo contesto storico. Il rilievo del Teatro Massimo e del sipario storico è stato eseguito con laser scanner e fotocamera digitale a 24 megapixel, con l'intento di replicare l'esistente nel mondo digitale e agevolarne la comprensione, lo studio, l'analisi e di simulare attraverso la modellazione e l'animazione il comportamento del sipario e la sua integrazione nel palcoscenico. Il sindaco Lelucco Orlando ha sottolineato la grande emozione di rivedere questo sipario, emozione che credo accompagni tutti i presenti e si unisce a un grazie in particolare ai laboratori di Brancaccio. Per il sovrintendente Francesco Giambrone questo restauro è frutto di collaborazioni che sfatano i luoghi comuni, quello della mancanza di collaborazione tra le istituzioni pubbliche, quello che al sud sia impossibile trovare i finanziamenti privati perché è difficile ma non impossibile e quello che non sia possibile spendere velocemente, bene e in maniera concreta e manageriale i fondi. Il sipario dello Sciuti tornerà ad accogliere il pubblico in occasione dell'inaugurazione di stagione. Rivedere nel boccascena del Teatro Massimo il sipario con i colori così intensi e brillanti è davvero emozionante, ha affermato Lazzaro Ross, cofondatore e direttore generale di Volotea. Siamo felici di riconsegnare alla città un pezzo importante del suo patrimonio artistico e culturale. Non abbiamo avuto alcuna esitazione, appena c'è stato proposto il restauro di uno dei simboli di Palermo abbiamo accettato. Si è creato un rapporto sinergico notevole tra la sovrintendenza e il Teatro Massimo, ha sottolineato l'architetto Lina Bellanca, sovrintendente per i beni culturali e ambientali di Palermo. Mi piace ribadire che il 2018 è stato un anno straordinario, ricco di successi tra i quali si inserisce questo evento. Volotea è impegnata da tempo a sostenere i progetti del Teatro Massimo e negli scorsi anni ha organizzato diversi concerti gratuiti per tutti i palermitani. Il progetto di restauro è stato redatto dalla dottoressa Roberta Civiletto e dall'architetto Carlo Vivi Rito, tecnici della sovrintendenza dei beni culturali di Palermo, che ne hanno curato anche la direzione dei lavori, insieme alla direzione dell'allestimento scenico del Teatro Massimo, professore Renzo Milan, professore Christian Lannì. Il restauro è stato eseguito dalla ditta Restaurarte di Belinda Giambra nel laboratorio di scenografia di Brancaccio, idonea ad ospitare le varie lavorazioni del restauro e le fasi propedeutiche finali dell'intervento, legata alla rifunzionizzazione dell'opera, svolta dal personale tecnico di palcoscenico del Teatro Massimo.